famma capisima porze fideide ben trovati su watchmoji italia oggi sveleremo questa nostra top 15 serie tv italiane migliori di sempre e servono un paio di specificazioni niente fiction in senso stretto o telenovelas quindi niente un posto al sole né lo scandalo e la vergogna 6 ma ci sarà ovviamente anche qualche variante sulla classica serie tv valide anche le miniserie a salire esempi sempre più clamorosi di come si dovrebbe realizzare un buon prodotto mettete in conto anche un piccolo allarme spoiler e ora cominciamo da questa numero 15 Quo va dis baby avete visto il film di Gabriele Salvatore? ecco questa serie ne riprende ogni tratto ma lo espande in 6 episodi anziché in 2 ore interessante la componente noir e l'ambientazione bolognese topo scaro al giallo italiano degli anni 90 la serie è la prima di quel nuovo ciclo di produzioni Skycat Leia che possiamo dirlo a fine anni 00 hanno rivoluzionato il settore televisivo e tu lo sbirro in divisa alla numero 14 Scam Italia grazie al cielo qualcuno ha avuto la buona idea di copiare un format funzionante sì chiaramente non ce la siamo inventati noi Scam ma meglio tardi che mai perché finalmente il pubblico nostrano ha potuto affrontare un teen drama credibile e che per una volta affronta tematiche serie in maniera realistica non come al solito che per un teenager che beve una birretta spunta la minaccia riformatorio ho due parole per te quarti di finale alla numero 13 Mare Fuori a proposito di riformatorio Mare Fuori ha tanti difetti è vero ma un pregio glielo si deve riconoscere è la prima serie tv moderna di produzione tutta italiana ad aver polverizzato quasi ogni record di ascolti distribuita anche su Netflix eppure su Prime mi sembra forse è la volta buona in cui mamma Rai ha capito su quale target puntare e fare centro prendi il film Mary per sempre e svecchialo di 40 anni se siete stuzzicati dallo show ma un po' titubanti io ve lo dico qui dietro le quinte si sta lavorando per voi alla numero 12 Bang Bang Baby credo che serva un giusto endorsement a questo piccolo capolavoro made in Amazon perché la serie è molto bella e sembra non averla vista nessuno cosa accadrebbe se una ragazzina innocente scoprisse di essere erede di un impero andranghetista questa in soldoni è la sinossi ora correte a vederla e poi recuperate quest'altra lista di qualche tempo fa non mi rompe tu cazzo che io ora sistemare tutte le cose chiaro? alla numero 11 il commissario Montalbano Montalbano sono e meme o almeno lo è stato ma non solo dalle nostre parti questo serial ispirato ai romanzi di Andrea Camilleri pubblicati in trenta e bassa lingue ha dato alla televisione pubblica nostrana non solo un successo planetario ma anche un suo avatar iconico quel Luca Zingaretti alle prese con i crimini di tutti i giorni e non solo in un piccolo paesino della Sicilia più iconico di così poteva esserlo solo suonando il mandolino davanti a un vassoio di arancini o arancine in questura con gli attributi virili di fuori mi raccomando non mancherò buona giornata a Tor Pasquano alla numero 10 Odissea questa Odissea in otto puntate fu un altro tra i primi grandi sceneggiati dell'epoca d'oro della RAI produzione giga galattica che alzò la sticella primo sceneggiato RAI a colori e la tv pubblica dovette farlo perché nel resto d'Europa dove la serie sarebbe stata distribuita il colore in tv era già arrivato invece da noi lo switch sarebbe giunto nel decennio dopo monumentale e con introduzione di Giuseppe Ungaretti ad ogni puntata Ulisse distruttore di città il figlio di arte e padrone di Itaca alla numero 9 Esterno Notte questa è una cosa un po' strana perché di base è un bel e pesante film di Marco Bellocchio che racconta molto molto coralmente e con un cast pazzesco le vicende intorno al rapimento di Aldo Moro se avete visto Buongiorno Notte consideratelo un sequel spirituale il fatto è che dura tipo sei ore perciò eccolo distribuito in RAI come miniserie di sei puntate vi ricordate la meglio gioventù? è una cosa del genere 4 David di Donatello Bellocchio è come sempre una garanzia chissà che è vivo che è stato liberato nessuno ne puoi la famiglia e nessuno deve sapere che è qui alla numero 8 Sandokan la fiction italiana per eccellenza che ha davvero fatto scuola a livello di adattamento e messa in scena Kabir Bedi è ovviamente la celebre tigre della Malesia di Emilio Salgari che combatte contro gli inglesi del ragia bianco James Brooke la serie ha i suoi anni e quindi qualche acciacco ma è imprescindibile se si parla di serialità in Italia sigla pazzesca il regista è Sergio Sollima e questo cognome vi dovrebbe già suggerire qualcosa Sando Khan alla numero 7 L'amica geniale il romanzo originale è stato un incredibile caso editoriale poi hanno deciso di metterci le mani Rai ed HBO col supporto di Team Vision e il risultato è stato globale Saverio Costanzo porta in scena la vita delle due amiche partenopee Lenù e Lila a partire dalla loro gioventù nella Napoli anni 50 è indirittura di arrivo la quarta ed ultima stagione certo non è proprio una serie da binge watching rilassato e tranquillo ma vale ampiamente la pena di recuperarla io pensavo che stavo per morire e se sono restato a loro ingestare in occhio e film alla numero 6 Gomorra tra i prodotti italiani più conosciuti al mondo anche grazie forse alla feel catchy del napoletano Gomorra è un'altra di quelle grandi lucubrazioni sugli universi criminali preesistenti tipo Quo Vadis Baby che prima c'era il film e poi appunto hanno sviluppato il serial non credo di dover dire altro ispirata al libro di Saviano e al film di Garrone ci ripigliamo tutti chi le nostre dei frittur eccetera 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 so che ho rovinato la lingua napoletana con questa frase scusate alla numero 5 The Young Pope Paolo Sorrentino dopo l'Oscar per la grande bellezza realizza questa serie folle e ambiziosa con un giudlo incredibile nei panni di un giovane papa alle prese con tutto quello che deduco possa capitare al pontefice nel corso della sua reggenza vaticana le atmosfere sono quelle di Sorrentino e se cercate qualcosa di completamente diverso allora avete fatto 13 per la cronaca la serie sequel è The New Pope ed è con John Malkovich allora lei chi è? sono Giovanni Paolo III io se anche voi volete vedere una nuova serie late show dal titolo improbabile e con una trama bellissima beh sarebbe il caso di iniziare a iscrivervi a questo canale e cliccare la campanella degli avvisi ma proseguiamo su attimi itinerari con alla numero 4 strappare lungo i bordi mi sto allungando troppo e qui c'è poco da dire se non avete dato uno sguardo alla serie di Zero Calcare su Netflix o almeno alla prima delle due che è questa qua avete decisamente qualcosa da recuperare e non dico altro e la scusa del romanaccio che è difficile non vale conosco gente di Montpellier che se l'è guardata sottotitolata non capendo metà delle cose ma rimanendo piacevolmente colpita lo stesso quindi fatevi un regalo con questo racconto di umanità e poi andiamo a pigliangelato vorrei ribattere ma a me sento privato del mio inalienabile diritto alla lagna alla numero 3 Boris gli occhi del cuore Boris Fino ad ora non abbiamo fatto che parlare di lei pur non direttamente perché Boris è quel geniale prodotto che racconta tutte quelle dinamiche produttive del mondo dello spettacolo in particolare le fiction di cui oggi non abbiamo avuto voglia di parlare se non accenni e quindi via di registi cocainomani favoritismi schieriproduttivi sceneggiatori disperati e una galassia di personaggi a raccontare in modo geniale il bellissimo mondo dell'entertainment all'italiana E coffee break signori Ma come? Stai zitta Alla numero 2 La piovra Prima di Gomorra e di tutto il resto del mondo crimetainment c'è stata lei l'originale creatura criminale di Mamma Rai con protagonista Michele Placido 10 stagioni sparse in 16 anni che raccontano con nomi e luoghi inventati molte storie di mafia del nostro paese è un prodotto Rai anni 80 di base e oggi risulta un po' datato come messa in scena però se il mondo delle fiction crime italiche dalla migliore allo scandalo e la vergogna 6 vi piace qui avete di che studiare Nessuno oserà opporsi alla nostra richiesta di nuove leggi E prima di svelare la nostra numero 1 ecco alcune menzioni onorevoli Rocco Schiavone se invece le dico De Ruta lavora al parificio della moglie sti cazzi questo mondo non mi renderà cattivo ma non so io anzi io manco ho visto perché cercavo soltanto le regge e botta Eneide e anch'io per quanto mi sforzassi di capire il segreto di quel dono lasciato dai greci non compresi The Bad Guy I Leoni di Sicilia La voglia di lavorare non ci manca Eh ma la voglia non basta qui siete a Palermo e non è posto per morte di fame Diavoli Starà accanto a lui con sta sacrifici dovresti saperlo meglio di chiunque Il Miracolo Sei arrivata a te in questo momento è perché tu hai un compito Gesù di Nazareth Benedetto colui che viene nel nome del Signore perché io e il padre mio siamo una e una cosa solo e alla numero uno Romanzo criminale suo padre ridefinì la serialità negli anni settanta lui Stefano Sollima lo ha fatto nel 2008 insieme a Sky e Cat Leia che non so mai come si pronuncia con questa rielaborazione del romanzo criminale scritto da Giancarlo De Cataldo e già portato al cinema il risultato è qualcosa che non si era mai visto e senza il quale tutti i supertitoli di Sky odierni che ne so Blocco 131 Suburra e anche Gomorra praticamente non esisterebbero fotografia musiche scrittura dei personaggi sceneggiatura dialetto qui ci sono tutte le basi della serie contemporanea quindi un vero e proprio canone di estetica televisiva italiana io stavo con l'imbaloso stavo con l'imbaloso allora ci sono un po' di serie che dovete recuperare siate super sul pezzo ce ne sono altre che secondo voi avrebbero dovuto comparire in questa lista fatecelo sapere nei commenti e state pronti perché ci sono un po' di titoli interessanti così li ho sbirciati e carini belli mi ispirano grazie a tutti